Senti, le hai fatte tu quelle fotografie là dentro? Sì, sì, diciamo che mi diletto, sai. Sono stupende, sai, belle, hanno... Beh, a me piacerebbe tanto fare un corso serio di fotografia. La fotografia è interessante, sai, perché è una nuova forma d'arte, e dei criteri estetici codificati non sono ancora emersi. Dei criteri estetici? Vuoi dire per decidere se una foto è buona o no? Il mezzo si immette come condizione della forma d'arte stessa, appunto, ecco, sì. Beh, beh, ecco, vedi, per me, io, insomma, c'è, è tutto istinto, sai, per me è qualcosa che io sento, capisci, io cerco di cogliere il senso e non sto a pensarci su tanto. Sì, comunque, cioè, sono necessari, cioè, dei canoni, cioè, estetici, per operare, cioè, in una prospettica. Beh, non lo so, però, credo che rischi di far tardi. Sì, sai, devo guadagnarmi il caviale quotidiano.